Benvenuti nel podcast di Caliburn, dove il Medioevo è infinito. Siamo giunti al quarto canto del Purgatorio. Qui Dante e Virgilio raggiungono il punto d'accesso al monte e si troveranno sul primo balzo dell'Antipurgatorio, dove incontreranno coloro che per negligenza hanno tardato a pentirsi. Ed ora iniziamo con la lettura. Quando per dilettanze o ver perdoglie che alcuna virtù nostra comprenda, l'anima bene ad essa si raccoglie, perché nulla potenza più intenda, e questo è contro quell'error che crede che un'anima sovra altra in noi si accenda. E però, quando so de cosa o vede che tegna forte a sé l'anima volta, basse nel tempo e l'uomo non se ne vede. C'altra potenza è quella che l'ascolta, e altra è quella che ha l'anima intera. Questa è quasi legata, e quella è sciolta. Di ciò ebbi io esperienza vera, udendo quello spirito e ammirando, che ben cinquanta gradi salita era lo sole, e io non me ero accorto. Quando venimmo, ove quell'anime ad una gridaro a noi, qui è il vostro dimando. Ma zora aperta, molte volte in pruna, come una forcatella di sue spine, l'uomo della villa, quando l'uva in bruna. Che non era la calla, onde saline, lo duca mio, e io appresso soli, come da noi la schiera si partine. Bassi in salneo e discesi in noli, montasi su in bismantova e in cacume, con esso i pie, ma qui convien con voli, dico con l'ali snelle e le piume del grandisio, diretto a quel condotto che speranza mi dava e facea lume. Noi salavam per l'entro dal sasso rotto, ed ogni lato ne stringea lo stremo, e piedi e man volea il suol di sotto. Poi che noi fummo in sull'orlo supremo dell'alta ripa, alla scoperta piaggia, maestro mio, dissi io, che via faremo? Ed egli a me. Nessun tuo passo caggia, pur suo al monte dietro a me acquista, finché non paia alcuna scorta saggia. Lo sommo era alto che vincea la vista, e la costa superba più assai, che da mezzo quadrante a centro lista. Io era l'asso, e quando cominciai, oh dolce padre, volgiti e rimira come io rimango sol, se non restai. Figlio al mio, disse, infin qui ti tira, additandomi un balzo poco in sue, che da quel lato il poggio tutto gira. Si mi spronaron le parole sue, che mi sforzai carpando appresso lui, tanto che il cinghio sotto i piemi fue. Dante inizia il canto con un'interessante dissertazione filosofica riguardo alla tradizionale dottrina delle tre potenze dell'anima di Platone. Secondo Platone, infatti, l'anima era tripartita, e c'era l'anima concupiscibile, l'anima irascibile e l'anima razionale. Questa dottrina fu dapprima confutata da Aristotele, il quale nel De anima afferma che si tratta in realtà di diverse funzioni di un'unica anima. E questa tesi aristotelica venne poi ripresa anche dagli scolastici, soprattutto da San Tommaso d'Aquino. Ed è proprio a Tommaso d'Aquino che Dante si rifà con la propria tesi, affermando appunto che era un errore pensare che vi fossero tre anime, ma in realtà ve n'è una sola, e ne ha avuto la prova proprio in quel momento. Infatti fu così preso nel discutere con Manfredi da non accorgerci che il tempo stava passando e che il sole era salito di ben 50 gradi, cioè erano passate ben due ore. E di questo se ne sarebbe dovuto accorgere se l'anima fosse divisa appunto in queste tre potenze. Ma in realtà quando l'anima è presa da un così forte sentimento come appunto il disquisire con Manfredi sta a significare che vi è un'unica anima e quest'unica anima è rivolta solamente ad un pensiero. L'attenzione di Dante viene distolta da Manfredi proprio dalle altre anime dei contumaci, i quali lo avvisano che è arrivato a destinazione, cioè al passaggio per salire al monte. E si tratta di un'apertura così stretta da essere più piccola di quei passaggi attraverso le vigne che il contadino occlude con una manciata di spine per proteggerle appunto dai ladri. L'idea della porta stretta è evangelica, la troviamo appunto in Matteo ed ha un chiarissimo significato morale. La via per la salvezza è stretta e non tutti possono passare ed è anche una via molto ripida. E per rendere maggiormente l'idea al lettore di quanto ripida fosse quella salita utilizza come sempre dei riferimenti geografici. Ci dice infatti che è ben più ripida della strada che sale verso San Leo oppure che discende verso Nodi. Oltre al paragone con queste due città Dante fa un paragone anche con due monti cioè il Bismantova e il Cacume che si trova sui monti le pini. La salita è così ripida che lì conviene quasi volare e non in senso figurato ma proprio con ali snelle. Dante segue Virgilio con molta fatica e quando raggiungono l'orlo superiore di quell'alta parete Dante chiede a Virgilio ed ora che strada faremo e Virgilio gli risponde che non deve temere finché si salirà la strada sarà quella giusta fino a quando non troveranno qualcuno che possa scortarli che possa indicare loro la strada. Dante a questo punto guarda in alto e vede con stupore che non riesce neppure a vedere la cima di quel monte e che la pendenza e la pendenza di quel monte era praticamente a 45 gradi. Dante quindi è sconfortato da quella salita e in una scena che ricorda un po' quella che abbiamo visto in Inferno 21 chiede a Virgilio di fermarsi perché non ce la fa più ma Virgilio con il suo solito tono paternalistico sprona Dante a proseguire ed arrivare ad un ripiano poco più in alto e Dante rincuorato dalle sue parole si sforza a proseguire e arrivano appunto su questo ripiano. Ed ora continuiamo con la lettura. A seder ci ponemmo i viambedui, volti a levante onde eravano saliti, che suole a riguardar giovare altrui. Gli occhi prima drizzai ai bassi liti, posce li alzai al sole e ammirava che da sinistra ne eravano feriti. Ben s'avvide il poeta, ch'io stava stupito tutto al carro della luce, ove tra noi e Aquilone entrava. Ondegli a me. Se Castore e Poluce fossero in compagnia di quello specchio che su e giù dal suo lume conduce, tu vedresti il zodiaco rubecchio, ancora all'orse più stretto rotare, se non uscisse fuori del cammin vecchio. Come ciò sia, se vuoi poter pensare, dentro raccolto immagina Sion, con questo monte in sulla terra stare. Sì, che a me due hanno un solo orizzone, e diversi emisperi. Ondegli a strada, che mal non seppe carreggiare Feton, vedrai come a costui convien che vada, dall'un quando a colui dall'altro fianco, se lo intelletto tuo ben chiaro bada. Certo, maestro mio, dissi io, unquanco non vidio chiarosi come io discerno, là dove mio ingegno parea monco, che è il mezzo cerchio del moto superno che si chiama Equatore in alcun arte, e che sempre riman tra il sole e il inverno. Per la ragione che di, quinci si parte verso settentrion, quanto gli ebrei vedean lui verso la calda parte. Ma se a te piace, volentier saprei quanto avemo ad andar, che il poggio sale, più che salire non possono gli occhi miei. Ed elli a me. Questa montagna è tale, che sempre al cominciare di sotto è grave, quant'on più va su e men fa male. Però, quand'ella ti parà soave, tanto che su andar ti fia leggero, come a seconda giù andare per nave. Allor sarai al fin de sto sentiero, qui vi riposarla fanno aspetta. Io non rispondo, e questo so per vero. Dante e Virgilio arrivano appunto su questo ripiano, e si siedono entrambi a riposare, guardando verso Levante. Dante guarda giù verso i bassi liti da dove erano saliti, quasi a giovare il proprio animo e a constatare tutta la strada che avevano fatto. Poi Dante alzò lo sguardo verso il sole e vide che il sole si trovava alla sua sinistra. E di questo se ne stupì. Infatti, nell'emisfero boreale, se si guarda verso Levante, si vede il sole salire alla propria destra. mentre lì dove erano loro, guardando verso Levante, vedevano il sole salire invece alla loro sinistra. Virgilio, come al solito, si accorge dei pensieri di Dante e quindi gli spiega come sia possibile questo fenomeno. Virgilio infatti gli dice che se la costellazione dei gemelli fosse congiunta con il sole, lo vedrebbe rosseggiante ruotare ancora più vicino al nord e anzi a volte uscirebbe addirittura dal suo consueto cammino. Ma per capire come sia possibile tutto questo, gli dice Virgilio, devi immaginare con grande concentrazione che Gerusalemme e il purgatorio stiano sulla terra in modo tale di avere lo stesso orizzonte, ma di essere in due emisferi diversi, cioè uno agli antipodi dell'altro. Per cui chi si trova a Gerusalemme vedrà il sole procedere da una parte, mentre chi è qui lo vedrà procedere dall'altra. Dante comprende molto bene la spiegazione di Virgilio, dicendo appunto ho capito se infatti l'equatore celeste si trova sempre a metà tra il sole e il verno, cioè tra la parte della terra dove si trova il sole, dove si trova l'estate e l'inverno, l'equatore celeste appunto dista da qui a nord la stessa misura di quello che gli ebrei, cioè chi sta a Gerusalemme, vede di stare da Gerusalemme al sud. Quindi Gerusalemme e il purgatorio sono equidistanti dall'equatore, ma in realtà non è proprio questo il quesito che preme di più a Dante. Infatti glielo propone a Virgilio subito dopo questa spiegazione, e cioè vuole sapere quanto alto è questo monte, quanto ancora devono salire. E Virgilio lo rassicura dicendo che l'inizio è arduo, è arduo salire questo monte, ma vi è più che si sale verso la cima, la salita si fa sempre più lieve e dolce. Il senso morale di questa salita è molto chiaro. Si tratta appunto della via della virtù, che all'inizio è dura da seguire, ma via via che si acquisisce virtù, la salita si fa sempre più dolce. Perciò quando questa salita ti sembrerà così dolce, che ti sembrerà di andare per nave, vorrà dire che sarai giunto alla conclusione del tuo cammino. Ed ora continuiamo con la lettura e terminiamo il canto. E come lì ebbe sua parola detta, una voce di presso sonò. Forse che di sedere in pria avrai distretta. Al suon di lei ciascun di noi si torse, e vedemmo a mancina un gran petrone, del qual né io né ei prima s'accorse. La ci traemmo. E ivi erano persone che si stavano all'ombra dietro al sasso, come l'uomo per negghienza a star si pone. E un di loro che mi sembiava l'asso, sedeva e abbracciava le ginocchia, tenendo il viso giuso tra esse basso. O dolce signor mio, dissi io, ad occhio a colui che mostra sé più negligente, che se pigrizia fosse sua serocchia. Allor si volse a noi e puose mente, muovendo il viso pur su per la coscia, e disse, Or va tu su, che sei valente. Conobbi allora chi era, e quell'angoscia, che m'avvacciava un poco ancora l'alena, non mi impedì l'andare a lui, e poscia, che a lui fui giunto, alzò la testa appena, dicendo, hai ben veduto come il sole dall'omero sinistro il carro mena? Gli atti suoi pigri e le corte parole mosse le labbra mie un poco a riso. Poi cominciai, dell'acqua, a me non dole di te o mai. Ma dimmi, perché assiso qui ritto sé? Attendi tu i scorta, oppur lo modo usato t'ha ripriso? Ed egli, o frate, andare in su che porta, che non mi lascerebbe ire a martiri, l'angel di Dio che siede in sulla porta. Prima convien che tanto il ciel ma giri, di fuor da essa, quanto fece in vita, perché io indugiai al fine i buon sospiri. Se l'orazione in prima non maita, che surga in su di cor, che ingrazia viva. L'altra che val, che in ciel non è udita. E già il poeta innanzi mi saliva e dicea, viene o mai, vedi che tocco meridian dal sole e alla riva, cuopre la notte già col piede marocco. Mentre Dante e Virgilio si trovano ancora seduti a disquisire di come procede il sole e quanto dista ancora la cima del monte, una voce interrompe il loro dialogo e con un velo di ironia dice a Dante, forse avrai bisogno di sederti prima di salire. Dante e Virgilio si voltano verso quella voce e vedono un gran pietrone che non avevano notato prima. I due si avvicinano e vedono una serie di anime sedute all'ombra di questo pietrone, come qualcuno che riposa negligente. Infatti si tratta delle anime appunto dei negligenti, di coloro che hanno tardato a pentirsi dei propri peccati e che si sono pentiti solamente in punto di morte e che hanno tardato appunto a pentirsi per pigrizia. Dante appunto vede una di queste anime che sta seduto con la testa tra le ginocchia, tenendo appunto il viso rivolto verso il basso. e Dante la fa notare a Virgilio dicendo appunto guarda mio dolce maestro, quell'anima che sembra più negligente che se la pigrizia fosse sua sorella. Dante infatti ribatte anche lui con una punta di ironia a quanto detto da quest'anima. Quest'anima allora muovendo solamente lo sguardo lungo la coscia, proprio a sottolineare la pigrizia di quest'anima, risponde a Dante vai su allora visto che sei tanto bravo. A questo punto Dante lo riconosce e si avvicina e quest'anima alza un po' la testa, giusto un po' perché è pigro. E con il suo solito tono un po' canzonatorio chiede a Dante hai visto come il sole sale da sinistra qui in purgatorio e quegli atteggiamenti pigri di quest'anima fanno un po' sorridere Dante che ha riconosciuto il suo interlocutore come abbiamo appena detto. E si tratta di Belacqua. Non abbiamo molte notizie su questo belacqua ma dai commentatori più antichi si dice sia stato un liutaio fiorentino e che era un amico di Dante. Di lui appunto abbiamo poche notizie però qualcosa si è trovato negli archivi fiorentini e si appunto di un duccio di Bonavia soprannominato Belacqua e che abitava nel quartiere di San Procolo e quindi vicino alle case degli Alighieri e risulta ancora vivo nel 1298 mentre risulta morto prima del 1302. Secondo i commentatori fiorentini appunto questo Belacqua era particolarmente pigro ed era solito giustificare la propria pigrizia con la frase aristotelica sedendo e mirando l'anima diventa saggia e fu proprio Dante a rispondergli per le rime dicendogli che se è vero che stando seduti si diventa saggi tu sicuramente sei il più saggio di tutti. Dante quindi a questo punto chiede a Belacqua perché è lì seduto se sta aspettando qualcuno che lo scorti o se è stato ripreso dalle sue antiche abitudini e Belacqua gli risponde fratello non serve a niente che io vada su verso la porta del purgatorio in quanto l'angelo che la sorveglia non mi farebbe passare questo perché devo rimanere qui tanti anni quanti ne ho passati in vita nella mia pigrizia a meno che la preghiera di qualcuno che ha il cuore in grazia di Dio non accorci la mia pena altra preghiera non sarebbe accolta in cielo. Anche in questo caso da parte dell'anima in purgatorio vi è la richiesta di preghiere per alleviare e accorciare la propria penitenza ma vi è anche una precisazione fondamentale in quanto non tutte le preghiere sono accolte da Dio infatti solamente le preghiere di coloro che sono appunto in grazia di Dio e che non sono peccatori sono accolte e servono alle anime del purgatorio appunto per accorciare la propria permanenza lì. A questo punto Virgilio si rivolge a Dante spronandolo a continuare la salita in quanto ormai è mezzogiorno e la sera sta arrivando in Marocco. Come al solito Virgilio usa una perifrasi geografica per indicare il tempo e si conclude così il quarto canto del purgatorio. Se siete interessati ai miei podcast li trovate in tutte le maggiori piattaforme e sul mio canale youtube. Un saluto da Caliburn e ci sentiamo nel prossimo episodio.